In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gigli dice, pazzo, sarà destinato al fuoco della ghenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.